non importa siamo tutti qui al bucciano i signori di scelsi cancamini, cancamini abbiamo per le Mary Poppins il suo assurdo è il tuo ferro oh come bello ma sembra che Mary Mary ti sarà allegra anche quando il giorno vedi un Mary Mary il sole fa sfugliare e tanto bello ma sembra che tanto che non puoi fare o meno di cantare se Mary ha cantato ti senti un re il cuore diventato in pezzo è già e come bello ma il giorno vedi come bello ma il giorno Mary il suo sorriso il sole fa sfugliare può essere l'articolo è il suo il suo o il suo il suo il suo il suo il suo Muore fuori mossa, mi pare, si non si chiude la mia faccia, mi pare, mi pare, non si poteva fare, non si chiude. Se meia campare, mi sei di un re, mi morte è nato in grado, e tra il paese, come se mi fa, se trattano per il, tu suoi se rice, il sole è assombrato, Oh no! 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 E' il petto che fa a me il popista aver vinto la cosa? Oh no! Dì che cosa? Ah sì! Vedete un fotografato per i giornali? E' un po' bellissimo! E' un po' bellissimo! E' un po' bellissimo! Oh ok! Probabilmente non sono parole per i giornali! Signori! Signori! Prego! Arriviamoci a mandare la visione! Dico bene, Beppe! Digli qual è? Bene! Eeeeeee! Supercarifragili stiche piranitoso! Anche se ti sembra che abbia un nuovo spazio un poco! Signori ci poterle più dentro un tre di loro! Supercarifragili stiche piranitoso! Po ce l'è! Il mondo è sempre ovunque va, la sua parola magica e i bandos con l'età. Con i dubbi ai maraciato e mandarini ai vicesi, mi basta appena dirla che mi invito anche la ricetta. Si può dire anche all'inverso, basalari, espiristi, tragicali, verbus. Questa è con voi se è gelato, non si? Senza dubbio. Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare, ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma se non usarla bene, un'altra vita potrà chiaro. Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato, ed è veramente deliziosa. E' supercalifragilistico e spiralidoso, supercalifragilistico e spiralidoso, supercalifragilistico e spiralidoso, supercalifragilistico e spiralidoso. Emanuele e Marco! In tutta la loro grazia, in tutta la loro dolcezza, in tutta la loro bellezza. L'applauso per voi e i giudici, assolutamente come si può dire sul pezzo.